In attesa delle semifinali play-off, la Lega Pro, l'associazione che raggruppa le società di calcio di Serie C e che gestisce il terzo campionato nazionale, dopo aver riunito il consiglio direttivo in videoconferenza, ha preso alcune significative decisioni. Intanto ha ufficializzato la data di inizio della prossima stagione, che partirà, emergenza sanitaria permettendo, nel weekend del 26 e 27 settembre. E poi ha inserito il presidente della Pistoiese, Orazio Ferrari, nello stesso consiglio direttivo. Questo in seguito alle dimissioni presentate da Filippo Tagliagambe, che proprio in questi giorni ha ceduto le proprie quote del Ponte d'Era. Tornando alla data di inizio, attraverso un comunicato, la Lega Pro ha ribadito la propria preoccupazione per i problemi già evidenziati in diverse occasioni. «Siamo sempre in attesa del provvedimento sul credito di imposta e sull'istituzione dell'apprendistato», ha sottolineato il presidente Francesco Ghirelli. «Ci manca il pubblico allo stadio, che rappresenta una componente essenziale ed imprescindibile del calcio, oltre che essere una risorsa fondamentale per i nostri club. Ci auguriamo che la curva epidemiologica del Paese continui nel miglioramento costante degli ultimi tempi, anche per consentire un alleggerimento del protocollo sanitario. Per la Serie C è molto difficile sopportare economicamente il controllo sanitario previsto e sarebbe di certo un ulteriore ostacolo per la sostenibilità dei nostri club. Da ricordare, per quanto riguarda il calcio giocato, che per l'ultima squadra promossa in Serie B, dopo Monza, Vicenza e Regina, sono rimaste in lizza la Reggiana di Massimiliano Alvini, il Novara, il Bari e la Carrarese. Venerdì sono in programma le semifinali in gara unica, mercoledì della prossima settimana e invece spazio alla finalissima.